Ciao a tutti, ecco le donne che piacciono agli uomini di valore. In questo video voglio farti capire quali sono le donne che piacciono agli uomini di valore, agli uomini di qualità, in modo tale che tu possa, diciamo, adattarti un po' a queste categorie, nel senso non di fingere di essere un'altra persona, però avere uno stile simile, in modo tale da poter attrarre nella tua vita uomini di valore. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Iscrivendoti al canale attiva la campanella così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video e se vuoi delle risposte mirate alle tue domande puoi abbonarti al canale. L'abbonamento, è una quota davvero simbolica, ti permetterà di ottenere delle risposte precise alle tue domande. Quindi basta andare nell'home page, tastina abbonati, che sta vicino a tastina iscriviti, potrai abbonarti al canale. E veniamo alle donne che piacciono agli uomini di valore. Allora, intanto diciamo che quelle che non piacciono, che apparentemente uno dice potevo piacere, sono le cosiddette bombe sexy, le sciupa, diciamo, le femminone, ecco queste qua, eccessivamente provocanti, eccessivamente scoperte. Non piacciono perché non, cioè possono attirare per carità fisicamente, ma non vengono viste come potenzialmente compagni di vita fondamentalmente. Un uomo di valore non vuole accompagnarsi con una donna del genere. Quindi, no alla volgarità, no all'essere eccessivamente, come possiamo dire, eccessivamente procace, non è il tipo di donna che piace a un uomo di valore. E allora quali sono le donne che piacciono agli uomini di valore? Ma allora, sono diverse tipologie che adesso ti andrò ad analizzare. Ci deve essere un substrato comune a tutte queste tipologie diverse, che è la femminilità, cioè, la femminilità che cos'è? È tutto ciò che distingue dalla mascolinità, quindi tutte le caratteristiche che distinguono dalla mascolinità. e sono, ad esempio, l'abbigliamento femminile, quindi tutto quello che è diverso da quello maschile, la camminata, il portamento, diciamo così, il fascino femminile. Queste sono tutte caratteristiche che ci devono essere, cioè femminilità, portamento e fascino sono tre caratteristiche che ci devono essere. Poi anche fisicamente, ovviamente, una donna deve tenersi, sia come cura estetica, sia come cura fisica, ovviamente. Quindi il fisico deve essere comunque curato, deve essere a posto, insomma, basta. Ma questo fa parte un po', come dire, oggigiorno fare una dieta sana e attività fisica, sportiva, per mantenersi in forma, diciamo che è molto utile. Invece sono da escludere anche, diciamo, se fatte massicciamente gli interventi di chirurgia estetica, i labbroni, gli zigomi, il botulino, tutte quelle cose lì, di fatto non attirano fondamentalmente. Allora, quali sono quindi le caratteristiche? Queste sono caratteristiche comuni che devono avere le donne di valore. Poi vi sono due o tre tipi di donne, di vario genere, diciamo. C'è la donna intellettuale, la donna intellettuale attira molto, è una donna con grande cultura e capacità di conversazione. Direi che è la tipologia principale che piace agli uomini di valore. Fermo restando, ripeto, femminità, apportamento, fascina, tutto quello che ho detto prima, sono delle costanti. Ma poi, la donna che piace di più è la donna intellettuale, quella che ha una grande cultura, una capacità di conversazione, che sa stare con le altre persone, insomma, sa interagire. Questa, direi, è la tipologia che piace di più. Piace anche talvolta un'altra tipologia di donna che è la donna in carriera. una donna che fa, diciamo, dedica molto tempo al lavoro e ha come obiettivo, uno degli obiettivi fondamentali di vita, è la carriera. Piace meno della donna intellettuale alla donna in carriera, ma comunque è una tipologia di donna che affascina, da un certo punto di vista, l'uomo di valore, diciamo così. Questa è un'altra caratteristica fondamentale. Poi, un'altra tipologia che può piacere è la donna che punta molto sull'eleganza, che magari non ha una grande capacità, diciamo, intellettuale, diciamo, non è una grande intellettuale e magari non ha neanche una carriera, però ha un'eleganza, raffinatezza, dolcezza ed è una donna, diciamo, comunque indipendente, ovviamente. L'indipendenza è un qualcosa di fondamentale, insomma. E poi c'è un'altra, c'è una quarta tipologia di donne che apparentemente potrebbe sembrare meno interessante, invece può attrarre gli uomini di valore, che è la cosiddetta, diciamo, la tipica ragazza della porta accanto, no? Una donna di buona famiglia che punta molto sulla semplicità, la purezza e anche, da un certo punto di vista, l'ingenuità. Quindi, è una tipologia di donna questa che attrae, che attrae. Può avere anche un lavoro normale, non so, la commessa, tutto quello che è, però è una tipologia di donna che può, che può piacere, proprio per la sua purezza e la sua aria pulita, insomma. Ecco, queste sono le tipologie di donne, le quattro tipologie di donne che piacciono, che attraggono gli uomini di valore, gli uomini di qualità, insomma. Bene, per questo video è tutto, lascia nei commenti qua sotto la tua opinione, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ciao a tutti!